Non è sempre a lei, 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 che è, sono fantasia per poter spiegare, se voi volete bene a questo paese, fermate con una poca gente ricca, guardate dentro i vasci e poi le chiese, venite, venite assieme a me, per strada antica, invece che con un amicino umano, parlate con chi soffre e chi fatica, quanta manicomia per casa scura, attorno a casa, starete in mavera, guardate, 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 guarda santo, coppe e mura, sta accendo a puparella, speradiglio, patriccio rassignato, è parallelo, e chi è cercato, lui, canto solo a miglia, l'acqua non ha neanche aiuto, si grissa, e guarda, mi sono portato in ospitalo, su paese lo so, come è grissa, io vengo, come un'unica a ogni puntone, e penso a gente che non manco pane, guarda bucina, cadici nel canzone, bravo, 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 chi è detto? La scuola di mondo, 1950, 50, ma sembra ieri, ma io, ma se avete visto qua, la microficcia, guarda, noi, poi dico, cosa vuol dire essere napoletani e italiani, italiani e sanremo, non ti rimasta gente, vedete, bravo, 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 ma io ho lasciato il peperone, solo chissime, ma cambia, c'è il peperone, no? Ma lui, ma lui, mette l'altro peperone, poi ce lo beviamo, sono chissime, sono chissime, pensate, lo chasset, è bella pure la fatta, a questo che è improvvisato, Grazie.